Musica E' la prima volta che intervisto un cespuglio Qual è il personaggio? Cecchino di Call of Duty Samara di The Ring Di com'è il traversissimo? Nel mio caso è la soddisfazione sentirsi dire che sei identico al personaggio Anche e soprattutto quando ti fai tutto da tiro Io sono Kwaku, capo sciamano della tribù del Grugno Pugno E sono qui, per questa nostra, a portare un po' di scompiglio Loro sono i miei suddetti Eh ciao, sono Ruki E io sciacquano Eh diciamo, quello che ci porta a travestirci appunto voglio divertirci E diventare qualcuno al di fuori di noi Quindi personaggi che si distaccano dal quotidiano Ma è dall'accezione della realtà moderna Grazie a tutti Grazie a tutti.